Siamo nell'area di sviluppo industriale della città di Bari e qui c'è il primo esempio di forestazione urbana. Oggi con Fastweb abbiamo piantato mille piccoli alberi, altri 2000 saranno piantati nei prossimi due anni. Un esempio di forestazione urbana, un bosco urbano in una zona simbolica nell'area di sviluppo industriale dove ci sono tante aziende. Questi alberi serviranno a catturare la CO2, a fissare il carbonio e a contrastare il cambiamento climatico. Abbiamo detto che dopo i parchi cittadini dove ci sono le aree a verde, le aree pedonali, le zone giochi per i bambini, playground per fare attività sportiva all'aperto iniziavamo con questa operazione di forestazione urbana. Boschi all'interno della città, oggi nell'area di sviluppo industriale, nei prossimi mesi in altre zone della città a cominciare da Iapigia dove utilizzeremo fondi del Ministero della Transizione Ecologica e fondi privati come è accaduto oggi. Grazie a tutti.